Mario Leucci, artista, illustratori per realista, sono nato artisticamente parlando intorno alla fine degli anni Ottanta con l'aerografia su custom per la produzione di caschi, serbatoi, Harley Davidson in generale. Un pianino maturato una tecnica che si rifà all'iperrealismo, per cui ricerca la massima espressione del realismo sulla pittura. L'apera che sto realizzando per il Dej è la realizzazione di una tavola iperrealista che preveda nel puzzle la riproduzione di un ambiente in 3D dove il personaggio all'interno della struttura puzzle appoggia le mani contro il finto vetro che andrò a creare e renderà lui il fruitore dell'arte che in realtà è quello che sta intorno, cioè il chiostro di un museo così importante.